Ma Norton dasce un po' dalla nostra infanzia, cioè nel primo maggio, a quello che sono stati i film della nostra infanzia, ma non ti preoccupare l'immaginario, soprattutto tutta quella estetica, anche dei packaging dei giocattoli per esempio, in maniera molto naturale l'abbiamo reso moderna, quindi questa roba sicuramente lo lega proprio con l'heritaggio di Scrumberg. Ce l'ha stato detto, è richiesto che noi ci siamo preso quanto pepe da parte lì, a noi ci... Era già il vostro territorio, per poter l'immaginare, e noi abbiamo detto che secondo me siamo allineati per poter... C'è un match, sì, c'è un match. C'è un match, sì, c'è un match.